Ciao a tutti ragazzi, io sono Mosheless, oggi siamo qui da mobile, finalmente questo video doveva uscire, ma porca vacca tancredi Finalmente questo video doveva uscire 2-3 giorni fa, ma è troppo caldo, non avevo mai voglia di mettermi qui a registrarlo Comunque siamo qui con la versione mobile di football, finalmente andiamo a vedere un po' come l'hanno gestita, come l'hanno trattata Mi scuso per la qualità ma mi sono arrangiato come potevo per registrare con questo telefono, quindi la risoluzione del gioco sarà un po' meh E niente, allora, innanzitutto è identico ovviamente alla versione per pc e console Abbiamo gli stessi eventi in gioco, quello che cambia è l'inizio per chi ha già giocato al gioco A PS 2021 su mobile, perchè collegando il Konami ID hai la possibilità di portare la squadra a cavali E adesso vi farò vedere la mia squadrona, top class proprio Un'altra cosa è i GP e le monete che vengono trasferite Io all'inizio quando ho aperto il gioco avevo 120 monete da quello vecchio E mi erano rimasti intorno ai 30.000 GP Poi mi hanno dato quelli iniziali, ero arrivato a 140.000 con quelli iniziali E il tutorial del gioco mi fa comprare un giocatore dai contratti base Io non avevo capito bene cosa... che giocatori mi avesse portato dall'altro gioco Se mi aveva portato perfettivamente dei giocatori Perché mi ha fatto selezionare di nuovo il nickname, non mi ha tenuto quello di prima E quindi pensavo mi avessero iniziato da capo lo stesso Nonostante le monete e i GP Quindi ho detto non voglio smettere troppo Però sono andato comunque a smettere 70.000 GP per Zaniolo Ho preso uno a caso E potevo averne 400.000 a quest'ora Potevo prendere un giocatore veramente basso di GP Perché non ne ho bisogno Andiamo a vedere la squadra Questa è la mia squadra Ho Romario e Niesta come leggende Ho Vinicius Junior, De Bruyne, De Jong, Alaba, Lucas Hernandez e Neuer Di quelli top, veramente forti Poi ci sono Insigne Pavard e Alexandro Questa è la squadra più o meno che avevo sullo scorso Perché avevo altre leggende in più Che sono qua E vedete con questa icona Perché le leggende sono gli unici giocatori Che non vengono portati alla versione dopo Nel senso che sì, ce le hai Ma senza contratto Devi rinnovare il contratto Io l'ho rinnovato solo a Romario e Niesta Quindi ho usato due dei dieci rinnovare il contratto che ti danno Il problema è che Sono solo per 60 giorni E non un anno come gli altri giocatori E questo È un problema perché appunto Non potrò usare Tutto il gioco Poi non so Effettivamente fino all'autunno Non manca chissà quanti mesi Però Non riuscirò ad averli Sempre E quindi ho scelto solo Romario e Niesta In modo da gestirmi il rinnovo al contratto Perché costa un sacco di punti di football E te ne dà uno solo Quindi Meglio tenerseli da parte Non si sa mai Questa meccanica ancora non so bene Al massimo queste leggende Se non hai bisogno Puoi svincolarle E A parte Zamorano Fargisone Sono veramente bassi Di overall E quindi danno poco Battistuta e Mataus Danno un bel po' di gp E un 10.000 esp Poi Ve lo faccio vedere Dall'altra schermata Dalla mia squadra Siamo sulla mia squadra E Appunto La carta delle leggende È definita Dov'è che si vedeva Nei dettagli Tipo di carta leggendario Però c'è scritto tipo Brasile 1994 Carryover Carryover Tra parentesi Quindi Facciamo un'ipotesi Per il football 2023 Quando uscirà Le nostre carte Verranno Useranno lo stesso metodo Che hanno testato Qui sul mobile La squadra Nostra Ci verrà Trasferita Tutti i giocatori Nel prossimo titolo Che ovviamente Sarà un update Del 2022 Come hanno fatto Qui per mobile Che è un update Del 2021 Le leggende Diventeranno Carryover E quindi Saranno Possibili O svincolarle O rinnovare il contratto In quel caso Ci costeranno Un sacco di punti E chi non sa proprio Permettere cosa fa Poi solo 60 giorni Sarà Il contratto Il rinnovo Dura E quindi Al massimo La gente svincola Si prende i giocatori E poi Prende tutte le sue leggende E dovrà Iniziare A ritrovarle Naccao Shoppando Ovviamente Perché non si possa Prendere con il GP Le altre carte Saranno anche loro Carryover O Ce le avremo Normalmente Ma Io ho fatto Pure un piccolo spoiler Sulle bandoschi Speciale È tipo di carta Standard Perché ho Le bandoschi Quello vecchio Che non ci dovrebbe essere più Perché su mobile Hanno fatto questa cosa Vedete L'icona Del video Con il regalino In realtà Non c'è nessun video Da guardare Se voi cliccate Su questo banner Vi porta al sito Di EFootball E Poi tornate indietro Sul gioco E avete un contratto E avete un contratto a buio Per questo Per questo Degli attaccanti Ci sono Perché ci sono Anche gli altri tre Magic Chelsea E c'è questo qua Della Della Scozia Qui questo è un po' Quello che succede Su mobile Adesso Dovemmo andare a fare La prima partita di campionato Della divisione 10 Quindi Sappiamo che è contro Il computer E quindi La connessione Non influisce molto Perché Si è Offline Tra virgolette E Andiamo a vedere Che è un gameplay Completamente diverso Quello che Di mobile Tutto incasinato Roba Passaggi strani Io ho provato a giocare Sia col metodo De tocca e sfiora Come lo chiamano loro Quello Rivoluzionario Del gioco mobile Sia Con Quello Con i tasti Che adesso Ho Selezionato Allora Ho sbagliato il tasto Intanto Non mi ricordavo C'è il pressa Con i tasti È più facile Prespingere La palla Spazzarla via Sul cross Perché c'è il tasto Direttamente Mentre L'altro metodo È più difficile Perché devi Tappare due volte Sullo schermo Probabilmente Il programma Per fare Lo sharing Del mobile Laggerà Un po' Spero Che comunque Si riesca A vedere Abbastanza bene Allora Io ho detto in avanti Non ho fatto la fascia Ho fatto lagga Anche a me Lagga anche Cioè non è solo un problema Del Screensharing Sul computer Ma Fa laggare pure Il gioco I cross invece Scusate I cross invece Non ci sono i tasti E quindi dovete farlo col dito Pam E fa schifo Va veramente Schifo Fa lagga Non si capisce niente Vedete pure In ritardo Rispetto a me Ho smesso Nello tasto Rispetto a me Su mobile La cattura Va Pure in ritardo Perfetto Tranquilli Taglierò un po' Per ridurre Ridurvi Ridurvi la pena Di Non riesco a parlare Stamattina Taglierò Molto Della partita Per Non farvi soffrire Troppo Stavo dicendo I tasti Poi i tasti Pressing Lo gestisci Tappando Premuto su pressing E Con Il trascina In su Trascinando Mentre tieni premuto Trascini in su Il pressing Chiama il raddoppio Mentre con L'altro metodo Tu tieni Premuto Il lato Destro Dello schermo Dello schermo Per pressare E trascinando Anche lì Il dito Mentre pressi Chiami Raddoppio Il tiro a giro Ancora Non l'ho Non l'ho Fatto Su mobile Mi sa che Con il tasto Del tiro Trascinando Verso Destra Guarda perché mi va Di là Vediamo un po' Ma dove vai No Niente Verso sinistra Verso destra È sempre Il Sensazionale Stunning Lo stunning Quindi Non ho capito Come fare Il tiro a giro Da mobile Passaggio Sensazionale Tiro sensazionale Trascinando Verso Destra Verso sinistra Fuori gioco Mai Dietro Lì Non è vero mai Intanto si scalda Un sacco Il telefono In questa modalità Quindi questo è il primo E ultimo video Del mobile Non Non uscirà più Un video su mobile Probabilmente Finché non avrò Un telefono Migliore Con cui posso registrare Direttamente da telefono Senza fare Tutti questi Giri strani E allora lì Si riuscirà A avere una fluidità Decente E giocheremo Tranquillamente Ah Un'altra cosa Nel mobile E il cambiare posizione Di giocatori Che non si può fare Almeno io Non sono mai riuscito A farlo In questi giorni Il cambio di ruolo Nel senso Porco Insignia Che schifo Nel senso Quando tu muovi Rispetto alla sua posizione Il giocatore Nello schema di gioco Ah è stato deviato Quando tu lo vai a muovere Nel Nello schema Così Guarda Metto la pausa Un attimo Schema di gioco Quando tu Voglio farlo diventare Esa Infatti io Inisus Junior Stavo usando CLS Perché Non ho trovato Un modulo Decente Per i miei giocatori Per riuscire a usare I miei migliori giocatori E non puoi fare Manco questo Cioè Non c'è un modo Per metterlo qui Come voglio io Su mobile Non sono riuscito A trovarlo Se qualcuno lo sa Me lo faccio sapere Ma me l'ha rubata Ma era per quell'altro Vabbè Attenzione Si libra Insigne Insigne Lorenzino Mi carica troppo Cioè Io non lo faccio Manco apposta Non tengo tanto Premuto Però Mi carica sempre La barra troppo Sarà anche un po' Per la Che prende In ritardo Il comando E quindi Preme Una pressione Di troppo Però Vi assicuro Che Senza questo Collegamento Al pc Questo programma Che Fa laggare Il telefono Non Cioè Non ci sono Questi problemi Si gioca Tranquillamente Si Poi Ci sono Le varie Royal Rumble Di pass Mobile Casino Però Vabbè Il fatto Andarsene via In dribbling Non puoi fare Un dribbling Perché Non c'è Manco il tasto A differenza Differenza Di FIFA Almeno Magari Magari Sul tasto Dello scatto Però Sappiamo Che il doppio Tap Ci allunga La palla Non Cioè Non fa Dribbling Ma fa Lo scatto E Si allunga La palla Quindi Questo Era Il football Mobile Abbiamo fatto La divisione 10 Incredibile Contro una squadra Scarsissima Solo 2-0 Vergogna Altamatch Rimasti Qua La sua Scritta Fucsia Era un po' Non tanto User friendly Saltiamo Andiamo a divisere 9 Per questo video è tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Condividete Con tutti i vostri amici E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti